Ciao a tutti, sono Alessandro Renacco e io sono Roberta Peiretti e ci troviamo oggi qui al Padiglione 3 fuori dalla Sala Bianca per fare due chiacchiere con Elena. Dunque, Elena, per prima cosa volevo chiederti come stai trovando il salone in questi giorni, ti sta piacendo? Sì, quando fai gli incontri al salone, in realtà del salone vedi e non vedi, cioè io ieri ho fatto in realtà l'esperienza abbastanza tragicomica di dover correre dall'Oval fino all'altra parte e quindi ho semplicemente misurato le distanze, però mi sembra che stia andando molto bene. Volevo chiederle, è la prima volta che viene come ospite al salone del libro e sei già venuta invece come comune, diciamo, visitatrice? No, io sono venuta un sacco di volte come ospite, come visitatrice, come presentatrice, devo dire che l'anno scorso, che è stato l'anno in cui sono stata invitata dalle iniziative come adotta uno scrittore, perché ho potuto apprezzare di più il lavoro complessivo che fa il salone anche fuori dai giorni del salone stesso, dai giorni della fiera, chiamiamolo così. Mentre noi sappiamo che lei è nata a Monaco, Monaco di Baviera, da cosa deriva invece la vostra decisione, la sua decisione di trasferirsi qui in Italia? Io mi sono... è una decisione che ho preso praticamente quando avevo già... ero appena, diciamo, nell'età di poter decidere delle cose, poi non lo potevo fare, insomma ho finito le scuole superiori in Germania e poi dopo sono venuta a stabilirmi in Italia. ha a che fare con la mia storia, che è la storia di figlia di due sopravvissuti alla Shoah, che per la cattiva ironia della sorta si sono poi trovati in Germania, ma avevano dei contatti con l'Italia, io avevo già, che so, amici, una specie di famiglia adottiva, anzi una famiglia adottiva in Italia, per cui era semplicemente il posto dove mi sentivo meglio e quindi ho detto io vado a stare dove mi sento meglio. Volevo chiederle invece, a prodotto del suo libro Cibo, che appunto è stato appena ripubblicato con delle aggiunte, si ricorda quale avrebbe da dire il motivo principale per cui ha legato il cibo a tutti questi fatti che poi ha raccontato? Ma io non so esattamente come nacque l'idea iniziale, cioè come dal resto si può anche facilmente intuire, io sono sempre stata una a cui mangiare piace, a cui, che attraverso anche il gusto, il gusto, diciamo, positivo del mangiare, esprimeva la sua curiosità verso altri luoghi, altre usanze, e quindi non so, mi veniva abbastanza... E poi, avendo sempre lavorato su storie che hanno a che fare con la memoria, no? C'è la famosa Madeleine di Proust, da cui viene fuori il mondo di Cambrai, e quindi queste cose in qualche modo erano come un tramite che io sentivo molto mio per raccontare delle cose. Come ultima domanda, sempre riguardo al cibo, volevo chiederle cosa ne pensa del cibo italiano? E che in tutte le sue varianti è ottimo, credo che Friedrich Nietzsche sostenesse che quello pieventese è il più buono al mondo, ecco, così ci mettiamo a posto e apriamo subito dall'Italia, torniamo subito a dei campanilismi contrapposti. Grazie mille, quindi la ringraziamo molto e la salutiamo.